Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tee ed oggi come potete vedere siamo tornati su Enzombies G.M.I.D. Sto venendo! Esatto, quello era Gab ragazzi, come al solito i suoi commenti molto intelligenti sono di grande rilevanza nei miei video. Allora, siamo tornati, siamo sempre sulla mappa casino perché è quella che sappiamo fare meglio, sappiamo fare... Allora, hanno aggiornato la modalità, adesso hanno corretto dei bug, delle robe, quindi adesso cercheremo di vedere in quanti modi possiamo buggare anche la mappa aggiornata. Ha aggiunto anche cose nuove, e mi hai appena ricordato di fare una cosa assolutamente importante. Eccola qua, spoilerla tutta. Devo togliere un paio di cose, ovvero questi. Eccola là ragazzi, da qua si vede la preparazione di Wack. Non toglie, non toglie, non salta! Eccolo là, Wack ha rotto la mappa ragazzi, quindi noi ci vedremo nel prossimo video! Oh madonna. Ok, tolto tutto signori. Allora, voglio vedere una cosa, aspetta un attimo. In realtà sono fratello e sorella, quindi ti è la sorella. Wack, Wack vieni qua un attimo. Silenzio, Wack vieni un attimo qua. No. Wacka! Un attimo. Wacka sono morto per colpa tua. Nooo. Mamma mia, la sincerità di quel no. Fate fare 20.000 punti. Vieni qua da me. Vieni qua. Se tengo la donna, mi sa che devo riavviare il... Cioè non devo riavviare il Gmod. Ma come non fai a vedermi? Perché io ho la skin dello scheletro, cioè quella standard. Guarda qua, vedi questo. Secondo me ci si può entrare andando sulla panchina ed entrare dentro. Magari c'è un mondo nascosto lì dentro. Entrare dentro. Esatto. Perché io ci ho provato ma Wack con le sue skill da parkourista e infatti è centrato. Mamma mia! Mamma mia! Adesso provo ad uscire però non puoi più uscire. Ma chi ha aperto l'elettricità? Siete pazzi. Siete pazzi. Vedi, vedi, prendo quest'arma. Gab vai via. Va, tuta tua. Vediamolo. Ragazzi c'ho Ultramax. Io ho due fucili d'assalto. Ah, perfetto. Un fucile d'assalto è mio. Me ne serve un altro però. Fucili la pompa, sono a posto ragazzi per questa partita. Oddio! Mamma mia! Pick up Patch and Egg. Oddio! Patch and Egg è quel skillatore... Ah! Guarda qui! Ah ma aspetta! Eh lo so, io. Vaffan... Allora comunque aspetta un attimo. Eh, la roba delle granate, ve la siete, ce l'avete messa a posto? Premi G, premi G, premi G. Ah ok, boh, non mi serve sparare una granata. Volevo solo sapere se l'avete messa a posto. Ma adesso qua... Gab! Un RK62 sarebbe una K versione strana, ma strana proprio. Gab! E poi c'ho tappi. Qual è la probabilità di beccare le scimmiette adesso? Sarà tipo zero su otto miliardi. Io vi sto accoppiando con Waco. Ti stai accoppiando con Waco? No! Si tolga! Perché vi state accoppiando ragazzi? Non è una roba che si può far vedere ai bambini. Ecco! I sacchini! Esatto, tutti i sacchini che stanno guardando questo video dovrebbero andare via. No! No ragazzi, c'è una macchina mortale che non possiamo prenderla. Ti guarda. Oh mai! Non ho mai visto che cos'è quella roba. Dimmi che cos'è. C'è una macchina mortale, una minigun sarebbe per 30 secondi. Eh perché dovrebbe servirmi? Perché è tipo stra potente? Non è abbastanza. No, arrivo. L'abbiamo persa, l'abbiamo persa. Siamo in soccorso. Ricarico! Eh, al secondo piano c'è un po' di gente ragazzi. Un po' di gente. Un po' di gente. Perché non si scherzano. Eh invece qua stanno proprio scherzando come dei suini. Stavo scherzando qua ragazzi, stavo scherzando tutti al secondo piano. Gab dietro, Gab dietro, Gab dietro. Gab ricarico. Anch'io. Gab siamo fregati, Gab siamo per morire. Gab salvami, Gab stanno la ganga, Gab non capisco. Gab che cosa è quella roba, Gab con solo zombie, Gab è morto. Gab ricarico. Ok, ok. Gab ti stavo chiamando prima, non so se hai sentito. Gab non credo. Ah, ha preso la minigun, quella roba là che mi dicevi, Death Machine, la non so cosa... Vai T, spacca. Spacca. Ma scusa, vale per tutti o vale solo per me sta Death Machine? Ma perché? Io non la voglio usare. Perché è così, vecchio. Ma io la uso solo per rifare le barricate. Ma perché? Uzz, u. Niente, ma guarda che... Oddio, ho visto un tipo a stare 300 km. Guardalo con la minigun in mano, guarda. Ma perché tutti correrebbero così con una Death Machine in mano? In effetti. Ah, ok. È finita proprio appena beccato lo zombie, è finita. Grazie, sai. Ricarico. Non so, a me ti è buggata la Double Tap, ma fa pe... Stai per morire, Gab. Di nulla, vecchia. Chi è quello zombie? L'ha bloccato. Sì, ti è inceppato, te. Double Point. C'è anche il gigante, la del Pucka Punch, per chi lo volesse conoscere. È una persona molto, molto... È una persona molto gentile. Una persona gentile e molto disponibile. Waco! Ma Gmod mi potrebbe laggare anche per colpa dei troppi add-on? Sì. Possibile. Sicuro. Ma perché ora devo installarmi tutto il gioco? Non muore. Oh, 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 oh. La Penetton non muore, è morto. Ecco. U, lo strike! U, la Uzz, u. Mamma. Uzz, u. Perché? Eeeh, non c'è nessuno. No, Gaia, non puoi volerlo. Dove vai? Cosa stai facendo? Non voglio, non c'è nessuno. È stra inquietante. Cosa? Quando cammini, quando sei giù, è stra inquietante. Non lo farei mai più. Mi fai venire gli incubi. Carino. No, no. Allora, ma... Ma aspettate un attimo, ragazzi! Ragazzi, devo prendere la Uzz, u. Uzz, u. Uzz, uff. Ecco qua, ho preso la Uzz, u. Preso la Uzz, u. Ok, basta, smetto. Sembro veramente un babburino. No, sempre un wakino. Ma perché mi dà robe che non voglio? Perché tu vuoi la Uzz, u. Ce l'ho già. Ammetti che tu vuoi la Uzz, u. Ragazzi, wako vuoi la Uzz, u, nient'altro. Oddio! Stavo per attraversare il corridoio, quando ho visto all'incrocio del corridoio, di passare uno zombie a 300 km orari. Ragazzi, ma gli zombie che trapassano le barricate? No, no, mi pare giusto. Perché? Perché? Perché ho sollevato il quadro? Ho sollevato un quadro, perché? Dimmi perché. Allora, wako, secondo me è sufficiente. Madonna! Wako, wako è sufficiente. Wako è sufficiente! Wako è sufficiente! Wako non è sufficiente! Wako non è sufficiente, come se mi dai una mano o no? Orca troia! Ecco, sono morto! Sono morto! È pieno di zuz! Sono morto! Sono morto! Ragazzi, non puoi morirmi! Sono morto! Cos'era? Ci serve aiuto, ci serve aiuto qua! Oh, ho sentito Death Machine, ok? La porca, oddio! Esatto! Ok. Questo, questo... Non muore! Non muore i santi tutti in colonna! Non muore! La Death Machine purtroppo... Cioè, non la puoi più usare quando rianimi una persona, anche se te la segna. Orca miseria, ragazzi. Ragazzi, sono messo male al secondo piano. Qualcuno al secondo piano, ragazzi. Ragazzi, qualcuno al secondo piano, chiunque. Anche un piccione mi va bene. Cosa? Un piccione al secondo piano, qualcuno l'ha visto? Un piccione. Vai, vai, insta kill! Dai. Oh, quel porcone di Gristone. Ah, ok, ok. Mi va bene anche lui, dai, a volte. Allora, vediamo un attimo. Aspetta. Ricarico. Ok, elettrifichiamo qualche zombo. Ragazzi, ma il fatto che ci sono miliardi di zombie qua sopra. Io spammo i colpi, perché tanto... Eh, lo so, perché tu sei una persona brutta. Allora... Ragazzi, ho bisogno di munizioni, comunque. No, dai, veramente, anch'io. Eh, vabbè. Ma gli zombie che vanno oltre alle barricate, che sono persone brutte. Eh, eh, eh. Purtroppo non possiamo farci molto. Ragazzi, round 16. Ok. Esattamente. Allora, qual è il piano d'attacco, ragazzi, per terminare questo gameplay Ernesto? Esplodere. Ah, ok, guarda, se vuoi adesso ho perduto tutti i percchi, se lo faccio. Esatto. Allora, quello che mi serve al momento è... Cosa mi serve? Double tap 1, ok. E... Aspetta, cos'altro? Ecco subito un zombie, addio. Ma la PhD Flopper l'hanno messa a posto? Eh, non lo so. Cioè... In teoria non dovrebbe avere errori. È Gmod che è fatto così. Ah, ok. Gmod ha gli errori. Che sono i zombie che puzzano! No, ragazzi, muoio, muoio! Ok, ciao, Wack. È stato bello averti. Non rianimatemi. Devo farlo io. Però cercate di attivare gli zombie, ragazzi. Dovete attirarli. Io ce li ho tutti al secondo piano. Chiunque venga al secondo piano, muore istantaneamente. Eh, ciao, Wack. Mi rianimo, ragazzi, mi rianimo da solo. Vai. Ok. Se no ci bughi la stamina. Mi sono rianimato, però sono... Ragazzi, sono bugato. Grande. Gap, girati. Gap, girati. Eccola. Che vuol dire che sei bugato? Come al solito. Come al solito, Wack. Sono sotto terra. Letteralmente. No, sotto terra. Ah! Perché io ci sto smiccarti? Cosa? Porca miseria, ragazzi. Uno da dietro che mi è venuto e mi è... Sono appena diventato una mitraillatrice vivente. Grande. Bene. Anch'io lo vorrei, eh. Però non tutti possono... Non tutti possono... Mamma mia! Chi sta morendo qua? Chi sta morendo? Lo vengo a rivivere. Chi sta morendo? Nessuno, nessuno. Come nessuno? Vai, Dagaia, rianimala! Aspetta! Aspetta, sto cercando! Ci sono avventato zombie che mi seguono! Uh! Ah, ma non mi stanno più seguendo, sono andati via. Ah, ok. Eh, sì. Ah, no, sono tutti qua dello spawn. Ok. Sono bugato, cioè... Di nulla, vecchia. Non semi-auto, full-auto! Come se? Demo-day? Muoverse qua. Allora, eh, gli altri sono qua. Eh, sono bugati sulla rampa di scale. Sono bugati. Nessuno salga. Non fa curare Gab? Ah, no, ok, ecco. Ma Gab è brutto, per questo non te lo fa curare. No, ma come... Grazie, vecchia! Di nulla, vecchia! Ma no! Oh! Cosa? Cosa succede? Ma ragazzi, double points? Eh... Con quale commento? No! Cosa abbiamo qua? Ah, abbiamo finito le munizioni. Le munizioni! Waco, ma sì! Waco! Waco, crea delle munizioni. Come? Con la magia! Come se ne senti che io fai? Con la magia, Waco! Waco, usa la magia per creare nuove munizioni per me. Ragazzi, si rendete conto che io per sopravvivere... Ma no, no, ma perché... Adesso non ho più un modo di salvare nessuno. Allora, prendiamo questo zombie. Non lo prendo. Ok, ok, ok. Scappiamo. Ci sono tutti gli zombie che vengono contro di me. Fuggiamo il più lontano possibile. Ma porco! Ti aiutami! Dove sei? Ti aiutami! Ti ho appena detto che hai finito le munizioni. Dove sei? Mannaggia, signore! Le munizioni! Le munizioni! Le munizioni! Le munizioni! Le munizioni! Gab, verrei io. Gab, verrei io da te. Non sono bloccato. Perché non ricarica? No! Non muoverti, ti ammazza la famiglia! No! No! Non ti muovere! Eh, ma vabbè, te la sei cercata però, proprio. Non mi sono mossa! Ah, no, poi, ti muovevi là come un fermozzo. Dove sei, Gab? Gab, dove sei? Non è quel banco! Tu, come fai ad essere ancora vivo? Sì, aiuto! Come vuoi? Ti fai fuori, prendi la pala! Ahia! Ah... Senti la pala! Sono sottoterra! Sotto perra! Allora, vediamo un attimo. Ah, già! Ma come? Ma perché? Perché volete che io perda? Non ho perk! Sto nella merda Ma qua! Zombie blood! Zombie blood! Zombie blood! No 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 no! Dove sei Gab? Oh zombie blood vengo a salvarti Gab vengo a salvarti perchè Gab è zombie blood! Zombie blood! Zombie blood! Ma dai! Grande! Zombie blood! Non mi muovo stavolta! Ecco l'hai fatto bene Ottima scelta Gab come se? Demo day! Demo vanti! Dai Gab come se? Da scatti una maniera tremenda Eh anch'io un po' Ma il cadavere di Gaia che è ancora qua? C'è il tuo cadavere qua Ciao Gab sono ancora arrivate quindi Ok carino Sotto perra Sotto perra Allora Ma sta lagando in modo incredibile anche a voi Ah ok bastava dire No c'è il gigante Ciao Gaia No 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 Ora guarderà a me il pezzetto ne son sicuro Vai Wax Sono fortunato mi libera No niente non mi libera neanche sto pezzetto Ma vi rendete conto? Oddio quanta gente hai Waco Waco Li ho uccisi tutti Wax se non c'eri tu sarebbe stato impossibile ucciderli tutti tipo Ok stai andando verso Stai andando verso giù Dobbiamo fuggire perché c'è il gigantozzo che viene verso di qua No no ragazzi il gigante è davanti a me Davanti alla mia faccia è buggato E tu dove stai? Secondo te? Sotto perra Ma non lo so Esatto Orca miseria E' morto gigante Come hai fatto a ucciderlo? Perchè forse era davanti a me tutto il tempo buggato Ma perchè non ti attaccava? Aia! Ah mi stanno ferendo Non lo so dall'ultimo aggiornamento si bugga il tizio Meno male esatto Mi stanno ferendo! Mi stanno ferendo! Mi stanno ferendo! Mi stanno ferendo! Ragazzi gli zombie Ok Ok abbiamo finito questo video Dobbiamo andare a casa ciao Io sono già a casa in realtà Aia Ecco qua Carpenter Demo dai Carpenter Carpenter Ciao Ciao Non ti voglio vedere Sei brutto Allora Orca miseria Orca 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 Allora Aspetta Ok Ma Waco Sei tu? Si Sei tu Maledetto Ciao Gab Sto cercando la Wunderfizz You spin me right round here Right round Ma scusa un attimo Non ce ne sono solamente 4 di Wunderfizz Mamma mia queste domande esistenziali Vai al cesso Dove sta? Non so Non so C'è quello del primo e quello del secondo piano Non so quale dei due intendi C'è un altro quello del secondo piano non c'è Quello del primo piano non so dov'è Lo so cercato Piano terra Piano terra No quello del piano dove c'è la paga punch Ciao Gaia Piano terra Ciao Ah ma non l'avevo mai vista Non l'avevo mai vista sinceramente Allora prendo la Widow Wine La prendo se mi capita Sì prendi Ok mi è capitato il elixir Mi puoi spostare Io? Gab no puoi spostarmi Gab No non può Si che può Un pochino Ma l'ultimo zombie bloccato la della fontana? Uccidete Uccidete Ma pur mom clip Al massimo Ah ragazzi Vuol di nulla vecchia Allora qui cosa abbiamo? Abbiamo una Arma paga panciata Eccolo qua Boh non ho preso la 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 Guardalo Guarda Cosa Cosa succede? Cosa succede? Eh ho messo un poster No Gab che cazzo c'è Aspetta 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 Devo darlo devo darlo But the name is the vine We don't whine Leave me TE quem Overその people Ma non posso Non posso Non posso Nja Che cazzo cazzo Ho fatto il buco giusto No No ragazzi Cosa succede Die punk or jackhammer Déogue St кон arms Aspetta l'amp Invece di alzarmi Sono sceso Meno male Però poi vado letteralmente sotto terra No stai passando per morire ma basta su elixir ti ammazzo allora Waco no ragazzi io mi sa che muoio tra poco Gab è morto di già a me va un frame al secondo quindi a me 5 Waco è morto guarda chi sarà il prossimo non Gab perchè io lo rivivo Gab riviviti Gab non camminare Gab ti ammazzo cos'era quella roba? Gab ti uccido no non sei fermo no non sei fermo non sei fermo ah sono io che ti spingo di fatto sto zombie però deve morire ti ammazzo la famiglia ti uccido quello è morto adesso ti rivivo se non ti rivivo adesso ti ammazzo mamma mia ma non è possibile Gab sei morto mi dispiace Gab è stato bello conoscerti ma sei deceduto invece no invece si ok Waco non so perchè sono morto sul momento in cui sei arrivato davanti a me ti rendi conto? si me ne rendo conto allora non riesco a fare tutto no 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 ti uccido no non riesco a fare il round solo no no io non ci posso credere lui è andato a curare tutti e tre gli ha ucciso il medico della peste le ha uccisi tutti eh oh colpa vostra eh vabbè sono morto aspetta ma tu ma che spingi le persone le prendi a calci invece che curarle giustamente atomica Cristiano Ronaldo tiziano Ronaldo tiziano Ronaldo tiziano Ronaldo ronni mi chiamano ronni ronni berserk esatto scusa devo fare devo fare tutto il round 18 da solo ti pare possibile? ma asco devo fare non è possibile con Ronaldo è molto triste per vedere uno scheletro che tiene un'arma così grande in mano ma urmomme è un'arma così grande fatto agli uccisi dai Gab torna Gab Gab sei pazzo ah maledetto dai però capolo questa pistola non vale niente ma come no dai è solo un'illusione non vale niente no 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 me n'ho chiuso dai eh orca miseria e gab gab via gab via via gab via gab via subito gab no 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 allora mi ha chiuso uno a fianco e l'altro stava dietro si è girato si è ricordato e il suo mamma mi ha fatto un pompino allora wako wako e wako no no non di nuovo non permetterò che cada di nuovo allora wako fatto adesso aspetta aspetta sto arrivando aspetta 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 cazzo allora qua nooo non mi spara non spara perché fuggi fuggi subito allora zombie tac e gab dove sei gab dove sei gab dove sei non mi spara l'arma cristo sto andando giù ragazzi sto andando giù in server di wako è buggato ragazzi perchè è proprio perchè è buggato eh beh WONSTKILL no 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 mi serve mi serve WONSTKILL subito nice sono morto guarda eh se non bestemmi oggi ehm ok allora aspetta forse da uzzu potrei r vive io vado da uzento io vado da uzus aspetta da uzzuu ma muore dalla uzzuu eh mi sta di sì aspetta allora eh fede fede petta petta faccio il giro largo dai 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 uzzuu Niente UDS U UDS U Rivivo No No UDS U Eh vabbè è impossibile Io sono morto Eh ho notato Allora Allora ragazzi Questo era Enzombies Spero che vi sia piaciuto Aspetta Aspetta Dov'è Ok Dead Gab dove stai Ok no Ok Allora ragazzi Siamo qua con una pistolina Ernesto Mi ha fatto i miliardi di punti Può partigliarmi sui muri Ma sono la Sono la roba di UDS Uhhh Come se Oh my Zuz Allora Che partita Signori Mamma mia Tante cose s'hanno successe Se non mi fossi bloccato Non per terra Esatto Per terra Quindi ragazzi Questo era tutto quello Che potevamo fare Per questo video E noi Ci rivedremo sicuramente Nel Prossimo video Ah Invece no Come no Anche no Ma sì Da Dove voglio Vabbè Vabbè Ci vediamo ragazzi Vabbè 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 Vabbè